Gentili telespettatori, buona giornata. Chi va contro il proprio datore di lavoro in un certo senso è sempre lodevole perché rischia il posto di lavoro per esprimere la propria opinione. Quindi sotto questo aspetto, tanto di cappello a Nicola Porro, conduttore televisivo di fama nazionale, è anche youtuber, influencer, vice direttore del giornale. Ogni tanto ha delle prese di posizione che mi sembrano un po' così. A volte sono d'accordo con lui, a volte no. A volte mi sembra che voglia sempre essere il bastian contrario, quello che va controcorrente, il paladino del controcorrente. Sembra, magari mi sbaglio. Che cosa dice? Che in Forza Italia pensano solo a salvarsi il sedere. Forza Italia è il partito del proprietario del giornale dove lui è vice direttore. Quindi va contro la politica aziendale perché il giornale di cui lui è vice direttore ogni giorno ci parla di Berlusconi, Berlusconi di qui e Berlusconi di là, Berlusconi ha fatto, ha detto, ha pensato, Berlusconi il grande. E lui dice che questi qua pensano solo a salvarsi. Però, attenzione, potrebbe essere anche solo non un attacco alla proprietà del giornale, ma un attacco ai politici che sono dentro Forza Italia, non un attacco al Berlusconi che è il titolao del giornale. Bisogna anche poi addentrarsi nella notizia e capire veramente. Beh, lui, nella sua zuppa di porro, 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 su YouTube, passa, in un solo video, passa tutti i temi della giornata. Nel senso che lui fa più una critica sui giornalisti che scrivono dei fatti. Lui critica meno i fatti, ma critica di più i giornalisti che scrivono sui giornali. E li fa tutto in un video solo. Vabbè, parte dai commenti sull'Eurovision, vinto dall'Ucraina, dopo l'appello di Zelensky, a votare per la band, in chiave naturalmente antirussa. Dice, con il televoto siamo tutti bravi, ma quando c'è da fare un voto parlamentare per mandare materiale a Kiev, arriva ne distingo, figuriamoci se si parla di andare lì, afferma il giornalista che commenta la prima pagina di Libero. E' ovvio che la band, chiamiamola così, Ucraina, ha vinto perché l'Europa ha voluto farla vincere per dare un segnale di unità, per far capire che il mondo occidentale è con l'Ucraina senza sé, senza ma, anche in una gara canora dove avrebbe dovuto vincere la migliore canzone, non la politica. Però capisco anche che in questo momento si voglia dare dei segnali forti, come dire, non è isolata. Poi si parla della guerra in Forza Italia, dove tutti vogliono fare i nuovi Berlusconi. Fanno ridere, fanno ridere veramente perché tutti stanno aspettando che Berlusconi lasci, perché stanco, perché ha una certa età. E allora tutti i galletti, Vallespluga, chiri, 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 bello, tenero e mai grasso. Tutti i galletti, Vallespluga, all'interno di Forza Italia, fanno che, chiri, 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 chiri. Cioè tutti, sono io, sono io, il nuovo Berlusconi o la nuova Berluscona. In realtà fanno pena, una grandissima pena. Perché all'interno di Forza Italia io non vedo politici di grido, non vedo figure carismatiche, per niente. Mentre all'interno sgomitano, io, 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 fanno veramente pena, no? Allora c'è la guerra in Forza Italia con Maria Stella Gelmini, poi c'è che protesta per il potere crescente di lì c'era un Zulli, no? Sarò la dominatrice di Forza Italia, che la forza sia con me, sono tuo padre. E così c'è la guerra tra le deputate, no? Quella ha avuto più potere, Berlusconi l'ha nominata capo della Lombardia, non ho capito che cosa l'ha nominata, non neanche mi interessa più di tanto, no? E allora c'è l'invidia tra tutti questi piccoli politici che si sentono e vogliono diventare l'alter ego di Giorgia Meloni. Perché dicono, uh, Giorgia Meloni, primo partito, eh, anche noi possiamo diventare come Giorgia Meloni. Allora la Germini, la Carfagna, la Ronzulli, tutti che dicono il nostro idolo è Giorgia Meloni, la dobbiamo contestare, ma sogniamo di diventare come lei che fa le convention. Lasciate perdere, eh, lasciate perdere. Di Giorgia Meloni ce n'è una, mentre di Gelmini, Ronzulli è pieno il Parlamento. Comunque, questa è una mia idea, eh. E così il partito fondato da Silvio Berlusconi sta deflagrando. Afferma Porro, 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 che legge i titoli dei quotidiani. Sul terremoto azzurro, con la guerra tra i dragliani e i meno governisti. Caro Porro, 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 vorrei dirle, esimio conduttore, che qui non è una guerra tra draghisti, governisti, cippalippa, qui è una guerra per diventare la Berluscona, l'erede di Berlusconi, ancora non l'abbiamo capito, è una guerra per il potere, a queste non gliene frega niente né di draghi né dei governisti, queste vogliono diventare la Meloni di Forza Italia. Ma Porro dice, non prendiamoci per il BIP. Questi si stanno giocando il seggio alle prossime elezioni politiche. Meno voti in base ai sondaggi, meno posti disponibili per la riduzione dei parlamentari. Questo sì, ma queste signore fanno parte dei big, di quelli che sicuramente verranno confermati. Gelmini, Ronzulli, Carfagna saranno sicuramente confermati. Se poi mi andate a prendere l'anonimo politico di Forza Italia che si chiama Cippalippa, sicuramente perderai il posto. Ma queste signore avranno ancora il loro posto, non è una guerra per il posto, non è una guerra tra filodraghiani e meno governisti, è una guerra per la successione al trono. Solo che lei Porro non lo può dire perché non è bello dire che queste tre signore vogliono diventare la Berluscona d'Italia, nel senso di prendere il posto di Berlusconi, perché lì non è bello dire questo del proprio datore di lavoro. Allora ci giriamo intorno. Però Porro dice, altro che grandi principi, in ballo c'è solo la poltrona. No, non è la poltrona, Porro, Porro, Porro. Non è la poltrona, Porro, non è la poltrona. Questa è la poltrona, ce l'hanno già. Queste vogliono diventare la Meloni di Forza Italia. Vabbè, detto e non detto, dico e non dico, datore di lavoro. Arrivederci a tutti e grazie.